musica Benvenuti in questo nuovissimo video Siamo tornati qua su FC Mobile Ragazzi perchè oggi Andremo di nuovo A giocare Partite ragazzi intanto vi ricordo di lasciare un like Un'iscrizione alla campanella Condividere il video con i vostri amici Vi ricordo di lasciare un like Mi raccomando Iscrivetevi mi raccomando Primo link in descrizione per abbonarvi Secondo link in descrizione per comprare i miei t-shirt Personalizzate i Dixmax Ragazzi se volete chiederle per Natale Ragazzi chiedetele ai vostri genitori I vostri nonni Ragazzi mi raccomando chiedetele ai vostri familiari Mi supportate un sacco E poi potete vederle ogni giorno in live Per andare dove volete Vi ricordo che sono 100% italiane 100% made in Italy 100% i cotoni italiani Quindi di qualità E poi ragazzi sono i Dixmax Quindi se le volete comprare per Natale Chiedetele ragazzi È un periodo perfetto per averle ragazzi Sono veramente bellissime Secondo link in descrizione Terzo link in descrizione Per fare una piccola donazione Quarto link in descrizione Per seguirmi sul sito Dove lì è il 30 Sì ragazzi Mi raccomando ragazzi vi ricordano Per chi non mi conosce Sono uno youtuber Che fa ogni giorno una live E lo rivende 30 Ogni giorno un video del 14 Quindi sentiamo il link in descrizione Per seguirmi sul tiktok E sul sito E sul server discord E se sto link in descrizione Per scrivermi sul server discord Detto questo ragazzi Andiamo a ritirare le 600 gemme Del regalo giornaliero Ragazzi che non buttiamo bianchi Perché ragazzi Ci fanno sicuramente Molto Molto comodo E direi subito ragazzi Di andare a giocare ragazzi Perché sono veramente Contentissimo E sono Molto Ma molto Ma molto Carico ragazzi Forse Rixmax Sotto nei commenti ragazzi Se siete arrivati a questo punto Del video Quindi inizio video Mi raccomando ragazzi Rimanete fino alla fine Perché ci sarà E vedremo ragazzi Se riuscirò a vincere le partite No Era quando ragazzi Però lo ripeto ancora Non magari questa serie in live Lo rivende 30 ragazzi Che ci tengo tanto Allora abbiamo Siamo contro uno che Ha la squadra più scarsa Della mia Ma come dico sempre ragazzi Le persone Dipende Quanto sono forti Dal vivo Nella realtà Non dalla loro squadra Ovviamente Anche la loro squadra Aiuta Però Soprattutto No come sono forti Facciamo come sempre La bottiglia più famosa Di Youtube Italia Qua con noi Siamo mentre facciamo le live Se facciamo i video Allora Sicuramente la sua squadra È più scarsa Della mia Ma è che sarà mia Non è che sia Fortissima Allora Vai calcio 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 Allora 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 ragazzi Mi sembra che sia abbastanza facile Questo Ragazzi Possiamo anche Trollarlo Un po' Ocafor Il tiro Ragazzi Credo che sia una partita Non credo sia molto forte Questo qui ragazzi Eh Eh ragazzi Ma lo so E' stato Siamo ancora all'inizio Ragazzi Ci sta Si potremmo anche tirare Con Alan Qui però va bene Vabbè Va bene Ok ragazzi Ribatte l'avversario Adesso Ok Bellingham Passaggio per Aldici Che la mette in mezzo Per Aldi Ringaland Si sposta E perde Eh ragazzi Cioè Non sto giocando serio Però Sennò avrei Già 2 50-0 Ragazzi Trovo facile Allora Bacchere Isco Vabbè ragazzi Dai facciamo un pochettino Di Challenge Tipo Vorrei provare A tirare tipo Da lontano Mi allontano Il tiro a giro Isco Che gol Ragazzi Adesso proveremo A tirare ancora Da più lontano Vediamo se riusciamo Andiamo a rivedere il gol Mi allontano Vabbè ragazzi Era un bel gol a giro Dai non possiamo dire Che non era un bel gol a giro Però ragazzi Forse è un pochino Troppo semplice Adesso ci riproviamo Ok ragazzi Adesso ci andiamo a riprovare Appena Superiamo il pallone Ok Dai Sì dai Raga ma quanto Dai Troppo facile Non è neanche così divertente Dai Facciamo un gol di testa È troppo facile ragazzi Ok Bellingham 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 Scarta tutti Bellingham Bellingham Vuole svustarsi a sinistra Bellingham Bellingham Mamma mia Bellingham Se perdo il pallone Sono uno scherzone Ragazzi Cioè non sono neanche andato veloce Ragazzi Venendo di conto Bellingham Parata il portiere Non so come il caspito ha fatto Il tuo compagno è fuori gioco E quindi il gol Non è valido Però a noi Non ce ne interessa Vabbè ragazzi Non so come il caspito ha fatto il portiere parata Però vabbè Non era così difficile Non l'ho tirata neanche così bene Quindi vabbè Posso capire che Il portiere L'abbia parata Non era così difficile Se vuoi essere proprio sincero Sincero Però va bene Allora Vediamo un po' Arriva il portiere Che con calma recupera il pallone Va bene Allora dai Due Fa un passaggio Che non ho capito Mi piace andare al portiere Proviamo a fare qualcosa di portiere Dai Proviamo a fare qualcosa di portiere Oh Cosa fai? Il portiere ragazzi Si è arrabbiato E ha tirato via il pallone Non so per quale motivo Ok ragazzi Secondo tempo iniziato Bellingham Bellingham Vabbè ragazzi Trovo lontano E poi l'ho tirata Veramente Veramente male Ragazzi L'ho tirata molto meglio Se vuoi provare A vincere Cioè A segnare Perché a vincere Cioè io ragazzi Veramente Potrei anche Fare una Potrei anche adesso Fare due autogol E poi fare un gol All'ultimo E recupero Se volete vedere Il recupero Ocafor Vabbè ragazzi Troppo salto Adesso facciamo tre autogol Facciamo tre autogol Ragazzi è veramente troppo facile Cioè ragazzi Non è per Cioè dai ragazzi Adesso noi la passiamo al portiere E poi gliela passo a lui E vediamo cosa fa Ragazzi Veramente è troppo facile Vabbè Adesso questo tiro L'ho fatto un pochettino Era abbastanza ovvio Che entrava Ho fatto un tiro Tra l'altro potentissimo Era abbastanza ovvio Che entrava Adesso ragazzi La passo al portiere La passo al suo giocatore Così vediamo se riesce a segnare Allora Dai però recupera Dix Max Recupera il pallone Velocemente Allora Vai Allora Dai L'ha presa lui L'ha presa lui Gol Dai Tira Devi tirare Non sai neanche tirare Ragazzi Dai Passa la Deve passarla a lui Ok La recupera Dai ma recupera La però Casterina Dai Mamma mia Ragazza Io non volevo neanche Non volevo neanche prendere Ancora E vai Niente Andrà a farlo per lui Dai almeno questo Almeno dai ci sta Ci sta Dica io so Tipo lui in realtà Perché è troppo facile Vai Tira 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 Eh raga Voglio difendere Dai Ragazzi che difesa Dai voglio fargli un angolo Voglio dare lui Un calcio di rigore Ragazzi Stavo giocando di fargli Fargli Allora Spesso Spesso Se posso provare Passaglia a lui Dai che lo prendo No voglio dargli un calcio di rigore Dai facciamo Diamo un calcio di rigore Diamo un calcio di rigore Volevo dare il calcio di rigore Ragazzi Oh non riesco a Oh dai recupera il pallone Dai Fagli un calcio di rigore Voglio dare un calcio di rigore È rigore È gol Ed è riuscito a fare un gol Grande Broski Dai raga Oh Era il nostro obiettivo Siamo riusciti a fargli un gol Dai Senza fare autogol È gol È gol Volevo fare un sacco di calci Di rigore Invece ragazzi Ma comunque Ragazzi Siamo riusciti a farlo segnare Ed è questo l'importante This is the important Oh raga Ora sono soddisfatto Ora voglio fare l'ultimo gol Così per avere la soddisfazione Faccio tutto Lo che for Faccio Non so che ho fatto Va bene Diciamo un bel costito A caso per Erwin Brown Anche non prenderà Molto bene ragazzi Sono veramente contento Perché comunque Siamo riusciti A fargli fare gol Ed è questo il nostro obiettivo Ragazzi Hashtag E gol Nei commenti Se avete visto La parte Fino a qui Il video Ragazzi Bene ragazzi Oh dai Potevamo vincere molto di più Però ragazzi Il nostro obiettivo Non era vincere Questa partita Ma fargli fare gol A questo video Ragazzi Che ha molto Molto Molta Molta Sarla Per diventare Un pro player Non che io sia forte Però ragazzi Lui Non sa neanche tirare Però comunque Un gol L'ha fatto Vabbè comunque Molto bene Ed è questo ragazzi Oh se mariette pure All'esordiente 2 Molto bene Ragazzi Ragazzi Il video di oggi è finito Vi ricordo di lasciare Un like Un'iscrizione Una campanella Non mancate Questa serie In live Le rivinte Trenta Se vuoi Messo di giocare Su discord Quindi Stattimo Link in In descrizione Per Per abbonarvi Secondo Link in In descrizione E comprare Mi di short Personalizzati Dixmax Ragazzi Vi ripeto Se volete chiedere Per Natale Ragazzi Ripetete Mi superate tanto Ragazzi Poi Un'iscrizione Che è bello Sempre avere Ovviamente Ragazzi E Dato questo Ragazzi Vi voglio bene Stiamo ritirando Un attimo Le offerte E non mancare Mi raccomando Questa serie In live Le rivinte Trenta Ragazzi Ci tengo A voi Che Vini A In live Ragazzi Veramente Ci tengo Non mancare Questa serie In live Le rivinte Trenta Ciao A tutti Condividete Ciao 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 Ciao